Mi sento un po' giù, però sono felice allo stesso tempo, perché comunque lo aspettavo da tanto in questo momento, non fa niente, anche così non fa niente. Vabbè, è un po' particolare, però andiamo avanti, lo facciamo ugualmente in matrimonio, sono felice e andiamo avanti. So, 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 so. Grazie a tutti.